Qua vediamo da vicino la casa che è stata sfiorata da uno smottamento, una frana di enormi dimensioni, si è sfiorata la tragedia, guardate. Comunque ha distrutto vari terrazzamenti, si sta lavorando, è veramente un miracolo quello che è successo. Guardate, siamo qui, speriamo subito che si risolvano la... E' incredibile. La sopra stanno lavorando. Grazie.